Stai tranquillo, da questo momento qualunque cosa sento io faccio i numeri. Brava, brava. E sti cingolini mi muovono per la società? Cingolini? Non ti pare assai. Gioquiamo una lira solo. Una lira? E che prendiamo con una lira? O butto ad essere buono niente. Ramma cingolini mi fai a questa mannaggia. No, 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 non bastemmiavi. Capito? Non bastemmiavi. Che stai cingolini? Alla non mi ha una casetta. Eh, non dirai che te le casette tuoi. Stai pescando, Michele. Pesca buono. Quanta mattina. Senta sotto il dito. Hai canna, hai? Hai toga. Chi? Nuova nuova. Ah, ma ci pensi a Gioquiglietti? Ma io a Maria rindia che i guaglioni sanno prende il caffè. Sì, così il mio figlio pulito. Via. Che bella cosa, se si vingesse il mio hotel. Venciamo, venciamo, non te lo incaricare. Titta! Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Oggi quando eravamo? Dicennovo. Sette e dicennovo. Rammala lì. E perché? Rammala lì, non mi fai a sto manno. No, no, non bastemmiavi. Non bastemmiavi. Non bastemmiavi. Questa lì. Questa lì. Questa lì. Questa lì. Questa lì. Ma crede, che state? Che vuoi fare? Ma crede, che state? Che vuoi fare? Entri alla campagna. Eh? Eh? Non ti lo incaricare. Eh? Io ho sentito la campagna per perdere la nata lì a mano a mano. E beh, che vuoi fare? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Grazie.